pian sanatoria torniamo a ripassare velocemente la procedura per regolarizzare certi illeciti diciamo minori ok ma soprattutto come dobbiamo interpretare il silenzio assenso della pubblica amministrazione ve lo spiego in questo video sono carlo paglia ingegnero urbanista qua trovate i miei riferimenti social iscrivetevi al canale telegram youtube c'è la campanellina mi raccomando e soprattutto per chiedermi consulti e pareri tramite il blog studiotecnico pagliai punto it allora ho preparato una semplice slide perché in verità l'argomento è molto complesso visto diciamo riducendo tutto ai minimi termini cian sanatoria in particolare l'articolo 37 comma 4 del testo unico edilizia ok dpr 380 allora in verità è tutto l'articolo 37 che riguarda la scia in sanatoria e le varie diverse modalità di sanzionamento scegliamo due punti principali il comma 1 quello che mi dice guarda che gli interventi eccoli interventi minori di cui all'articolo 22 comma 1 e 2 fatti senza scia o indiformità dalla scia comporta una sanzione pecuniaria pari al doppio l'aumento e valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione interventi minimo 516 allora quali sono questi interventi quelli del comma 1 sono praticamente sono le opere che possiamo fare normalmente con la scia il comma 1 praticamente è la manutenzione straordinaria pesante il restauro il risanamento pesante quindi entrambi sono quelli che comportano anche interessano le opere strutturali poi c'è la ristrutturazione edilizia chiamata leggera cioè tutte le ristrutturazioni edilizie tranne quelle pesanti poi c'è il comma 2 che è una particolare variante chiamiamola leggera non sostanziale a opere fatte durante il corso di un intervento autorizzato con permesso in verità mi permetto di dire che qui mancherebbe anche la seconda tipologia di varianti in al permesso che sarebbe il comma 2 bis qui non c'è quindi quella è da escludere poi ci sarebbe da fare alcun altro ragionamento sull'ambito penale ma ve lo risparmio ok sulle varianti ai permessi bene questa è diciamo la regola generale poi al comma 4 c'è una specificazione passatemi il termine mi dice quando fai questo tipo di procedura cioè la scia in sanatoria e l'oggetto della scia questi interventi abusivi illeciti abusivi no perché in teoria al penale non c'è ma questi interventi illeciti sono doppiamente conformi doppia conformità alla disciplina urbanistica edilizia vigente al momento di esecuzione dell'illecito e al momento la presentazione qui dice scrive domanda ma in verità dovrebbe dire istanza la scia non è una domanda la scia è una comunicazione praticamente è una segnalazione certificata inizia attività quindi appunto l'unica cosa che c'è da fare è comunicare con questa modulistica con questa procedura al comune la l'illecito gli illeciti effettuati ok bene sei doppiamente conforme alla disciplina urbanistica edilizia presenti la scia oggi benissimo allora è la migliore delle ipotesi questa il responsabile dell'abuso il proprietario dell'immobile quindi uno dei due può ottenere la sanatoria ecco qui diciamola la vedo corretta non vedo problematiche cioè io presento la scia in sanatoria e comunque vado a bersaglio vado a buon fine quindi io tengo la sanatoria devo versare una somma non superiore a 516 e quindi una somma variabile che sta fra 516 euro e i 5.100 e spiccioli chi la stabilisce questa sanzione perché alla fine è una sanzione lo stabilisce il responsabile il procedimento quindi se in comune c'è quell'istruttore che segue le scine sanatoria lui o il dirigente responsabile insomma c'è un responsabile procedimento che deve fare questa quantificazione come è parametrato questa forbice da 516 a 5.100 e rotti e in relazione l'aumento di valore chi lo stabilisce un aumento di valore lo stabilisce il catastro l'agenzia del territorio dice la norma poi non ce la faccio a escludere che possono esserci norme regionali che invece vanno a mettere lo zampino e a metterci il becco su queste cose e questo preparatevi in toscana per esempio oltre alla scena sanatoria abbiamo una versione diciamo più leggera dell'accertamento di conformità quindi abbiamo due tipologie e sanare due tipologie di procedure per regolarizzare questi illeciti chiamiamoli minori ok quindi non stiamo parlando né di quelli sanabili col permesso di costruire in sanatoria o quelli in cilatardiva bene e allora che succede però se questo responsabile del procedimento non risponde andiamo lì a parlarci o ma quando ci rispondi quando ce la quantificate vedremo faremo brigheremo ma non arriva niente e magari voi avete anche risposto a una richiesta di integrazione che va fatto il comune il comune vi può aver chiesto ulteriori precisazioni documenti elaborati non so voi avete risposto ma anche senza aver risposto all'integrazione perché il comune magari è convinto l'ha guardata quella pratica e non ha neanche bisogno di fare integrazioni ma manca appunto questo passaggio finale il conteggio che è quello che chiude tutta la questione quindi la conferma la la rende pienamente efficace la chiude a senso positivo e che facciamo il silenzio in quel caso come lo dobbiamo considerare appunto appunto la scia in sanatoria è un a differenza dell'articolo 36 del testo unico lì nell'accertamento di un formità li ho il silenzio diciamo di niego nella scia il silenzio non ha significato cioè il procedimento si chiude quando c'è un provvedimento espresso e in questo caso con la scia in sanatoria il provvedimento qual è quello espresso è la quantificazione il calcolo di questa sanzione pecuniaria che deve essere fatta e ovviamente pagata di nuovo in caso di silenzio che facciamo allora io vi segnalo un importantissima la recente sentenza di consiglio di stato la 1708 2023 utilissima spiega tantissime cose ma il succo è seguente ci sono tre indirizzi giurisprudenziali uno è il silenzio rifiuto cioè quando è stata presentata una scena sanatoria la pubblica amministrazione non risponde cioè c'è stata una giurisprudenza che diceva no ma va considerato come silenzio rifiuto per analogia del della procedura del permesso in sanatoria c'è un'altra giurisprudenza diceva no va considerata come silenzio assenso della pubblica amministrazione ora aggiungo che questa possibilità in teoria sarebbe prevista dalla dall'allegato a del decreto legislativo 222 2016 quando a riferimento alla scia in sanatoria e mi richiama la scia normale ok quindi il silenzio diciamo il meccanismo identico a quello della scia ordinaria anche questo è un come dire non è da escludere però però eccolo eccola la grande novità il consiglio di stato con questa sentenza ha detto una cosa alt fermi tutti questo silenzio nella scia sanatoria quindi articolo 37,4 testo unico è un silenzio in adempimento non ha significato purtroppo è silenzio e basta e c'è poco da fare quindi il procedimento si può ritenere concluso solo quando c'è un provvedimento espresso fatto dalla dal comune pena la sussistenza appunto di silenzio assenso questo è un po il punto di arrivo della sentenza che abbiamo detto quindi in soldoni che facciamo ai ragazzi c'è poco da fare o si va a parlare con le buone alla pubblica amministrazione lo so sono cose che capitano possono potete imbattervi in uffici comunali dove ahimè sono sotto organico problemi su problemi purtroppo ci vuole pazienza uno ci va a parlare con le buone dice giù via o mi lo fa il provvedimento l'hai controllata hai visto se tutto a posto mi vuoi chiedere integrazione uno è chiaro che deve mantenere un canale aperto di dialogo con la pubblica amministrazione però vi dico a livello formale di diritti potete fare un ricorso al tar contro il silenzio in adempimento della pubblica amministrazione perché perché te pubblica amministrazione hai un dovere e lo devi fare non è che è facoltativo non è opzionale non lo puoi ignorare questa tipo di obbligo questo tipo di verifica che devi assolutamente svolgere ecco che allora è necessario che tu provveda ma vuol dire perdere tempo spendere soldi andare a fare un ricorso altare lo so ma se la sensazione è pendente pendente da tanto tempo non avete neanche prospettive forse un forse questa possibilità spinge invoglierà tra virgolette la pubblica amministrazione ad agire perché poi se dopo anche un eventuale condanna per il silenzio in adempimento vedrete la pubblica amministrazione e soprattutto quell'istruttore prenderà la cosa un po sul serio un po più sul serio io spero per voi bene allora siamo un po arrivati in fondo vi rammento i miei riferimenti social che sono questi il mio riferimento blog studio tecnico pagliaia.it io sono l'ingegnere carlo pagliaia e vi rammento anche ai miei riferimenti canale youtube canale telegram che trovate qua sotto e ovviamente potete anche mettere un like e non è non è vietato potete o potete chiedermi e consulte parere qui da da questo indirizzo ok dai ragazzi io vi ringrazio per l'attenzione vi dico fate veramente ponete molta attenzione alla scena sanatoria perché è una procedura un po così un po può avere purtroppo queste situazioni un po brutte ok dai buon lavoro a tutti e soprattutto agli ingegneri architetti geometri e tutti i professionisti anche ai non addetti ai lavori se troverete utile questo video potete lasciare un commento qua sotto un saluto da carlo pagliaia e alla prossima